Amici del canale, buongiorno a tutti! Oggi cominceremo il restauro di questo Löwe, eccolo qua, gigantesco, è un 32 pollici, modello Planus, non ricordo di preciso 42-70 dovrebbe essere, comunque eccolo qua. Televisore molto bello, questo monta un telaio Q24 Media Plus, già predisponibile per la VGA, infatti io lo rifarò tutto e inserirò il modulo VGA e poi probabilmente sarà in vendito, vediamo insomma, comunque è un televisore che non ha tantissime ore, ne è circa 8000, e flat, non real flat, ma flat, a me piacciono molto questi che non sono completamente piatti ma sono leggerissimamente curvi, sportellino sotto, tenuto molto molto bene devo dire, eccolo qua, sportellino sotto, con le entrate sul davanti e se video e quant'altro, completamente multistandard, casse che adesso io ho tolto, ma sono tre casse, due casse per i bassi e uno il tweeter per gli alti, sia da una parte che dall'altra, completamente stereo, guardate anche dietro che bello, è molto grosso, è molto grosso però veramente molto molto bello, io lo vedi in funzione e mi piacque moltissimo, questi sono comunque televisori di altissima gamma, montrancescopi Philips famosi, molto belli, i 32 venivano fatti da LG Philips in Germania generalmente, mentre i 28 venivano fatti in Francia, e sono televisori molto molto belli, che vanno a 31 kHz, perché sono 100 Hz, e che quindi attraverso il modulo VGA si può, che era opzionale al tempo, che non si trova da nessuna parte, ma grazie a me e insieme a un ragazzo australiano siamo riusciti tramite un mio modulo VGA che io avevo originale, siamo riusciti a replicarne uno identico, inserirò appunto il modulo VGA e tramite la VGA si bypassa tutta la scansione 100 Hz e si può utilizzare il televisore in 480p, in 8,48x480 quindi widescreen e anche il 1024x576p, sempre un widescreen per vedere via progressivo tramite transcoder dei DVD per esempio, e si può addirittura collegare la PS4, ma sono televisori bellissimi per la Wii, facendo in modo di, attraverso il transcoder di passare da component a VGA, per l'Xbox 360, per la PS3, addirittura alcuni mi hanno chiesto per la PS4, comunque intanto questo è il televisore, molto molto bello devo dire, molto elegante, e cominceremo adesso il lavoro di restauro su questo televisore e sul suo telaio Q24. Ed ecco il video del telaio rifatto insomma con tutte le modifiche apportate, ci ho messo un po' perché purtroppo ho avuto qualche problema, più di quelli che mi aspettassi sinceramente con il mettere in bolla questo telaio, diciamo io conosco un po' adesso i, io conosco diciamo le problematiche di questi telaio ora però meglio, però purtroppo ho avuto un problema inaspettato che è quello del trasformatore switching, che io non ho mai cambiato in vita mia, in questo ho dovuto cambiarlo, ora io come vedete qua ho fatto già tutte le modifiche che andavano fatte, cioè questi resistori sono stati cambiati, questi resistori sono stati cambiati, tra l'altro con dei resistori molto più grandi come vedete, da 2 Watt, e poi ho cambiato tutti i condensatori che sono in polie, oltre agli elettrolitici, tutti i condensatori poliestri che ci sono nella zona del TDA, sempre nella zona del primario. Oltre a questo ho cambiato anche qua dietro, non si vedono, ma ci sono due condensatori che vanno sostanzialmente sul gate e sul 1 e sul drain e il source del finale di alimentazione MOSFET che è questo. Ho fatto questi cambi un po' perché spesso creano delle problematiche, ma a parte quello perché ho avuto delle problematiche, cioè facendo questi lavori prima di cambiare tutto, ho rimesso in funzione l'apparecchio e allo stand-by bruciava il fusibile di rete che è qua, lo bruciava e mandava in corto il finale di alimentazione, il MOSFET, e non so perché, nel senso che so il perché lo manda in corto circuito, però qua, avendo poi cambiato tutto, non c'era nessuna ragione per cui lui dovesse andare in corto. Allora a quel punto lì ho provato proprio a cambiare tutto, anche il condensatore di filtro, ma il filtro a rete di solito non manda in corto il MOSFET. Verifica ponte di Iodi, ho verificato tutto e continuavo ad andare in corto il MOSFET con, tra l'altro, qua due Iodi, questi due Iodi specifici, questi due Iodi sono due Iodi veloci rettificatori che vanno all'audio, che vanno i due TDA dell'audio che sono qua, e da datasheet e da documento ufficiale dell'OEV io ho cambiato tutto perché l'OEV aveva emesso un comunicato ufficiale sui Q2400, sui Q4140, di fare queste modifiche, cioè di cambiare tutte le resistenze che ci sono qua, il Buzeta, qua il Buzeta 91 io l'ho cambiato con un 11S60 che è più potente, ovvero regge fino a 11A, mentre il Buzeta fino a 8,5 se non ricordo male, quindi il Buzeta tende sempre a scaldare molto, era un po' il limite, invece io l'ho upgradato, e il fotocopiatore anche dice di cambiare, il transistor della regolazione del voltaggio del primario, e poi dice anche di cambiare proprio questi Iodi qua, questi due e questi due, questi due sono più pericolosi, questi qui, perché questi due Iodi vanno direttamente al circuito del secondario della deflessione, mentre questi qui vanno solo al secondario dell'alimentazione dei finali audio. Dici di cambiarli, però questi due erano già, secondo il datasheet di modifica, erano già quelli originali, erano già quelli corretti, cioè gli GP30, questi due invece erano ancora i BYW che sono quelli da cambiare. Questi due li ho trovati anche in corto, quindi li ho cambiati, però continuavano ad andare in corto il MOSFET, naturalmente io, o meglio, non è più andato in corto perché io, naturalmente ci mettevo una lampadina a protezione del circuito, però mi risultava sempre che si accendeva a pieno regime e quindi c'era un corto netto. Insomma, indagando indagando, a un certo punto l'ultimo ho cambiato il trasformatore switching, cioè questo, e ho emesso in funzione l'apparecchio, che è una cosa incredibile perché io di trasformatore switching, soprattutto di bestioni del genere, mai visti cambiati in vita mia. Capita, capita, soprattutto se magari è stato in un luogo un po' umido, eccetera, ed è lavorato tanto, può succedere. Questo ha lavorato poco e non è stato in un luogo umido, però può succedere evidentemente lo stesso. Bene, quindi abbiamo fatto tutto il lavoro, è stato tutto cambiato, adesso andiamo a... togliamo la lampadina, mettiamo il suo fusibile e vediamo se questo televisore torna di nuovo affidabile, ovvero funziona di nuovo perfettamente o no, e poi facciamo qualche test. Io poi, una volta che vi farò vedere dal video, io come al solito tengo in test per tante ore per vedere che sia tutto assolutamente perfetto. Benissimo, tutto rimontato, il televisore dietro ovviamente è aperto, per essere sicuri che... adesso il televisore funziona, finalmente, prima se premiamo l'interruttore diretti come questo, lui faceva così, dopodiché non entrava in stand-by, ma... ma partiva direttamente il fusibile, si sentiva immediatamente il fusibile che partiva, e poi il mosfet di alimentazione, eccetera, eccetera. Adesso, avendo cambiato sostanzialmente tutto, non è possibile che non vada. Accendiamolo, rele che scatta, alta tensione... Oh, finalmente il televisore dovrebbe ripreso il suo normale funzionamento, perfetto. Qua sì, io sono impostato sulla VGA, perché questa è la scheda VGA, farò poi qualche test più approfondito, perché via VGA possiamo avere un segnale a 480p nativo con un'immagine di una bellezza che, credetemi, non ha rivali. In questo momento però lo voglio testare in RGB. Ecco qua, con lo shutter corretto. Allora, il televisore è assolutamente meraviglioso, noi possiamo comunque andare nel service menu per poi modificare le cose, io l'avevo già impostato prima che esplodesse tutto. Il fuoco è meraviglioso. Diciamo che comunque i 100Hz sono un'altra cosa, anche impostati a 100Hz. Poi con la VGA siamo su un livello che io francamente non ho mai visto, ma anche a 100Hz hanno veramente marci completamente diverse dagli altri. Vi voglio far vedere solo brevemente, infatti, il contrasto bianco e nero è impressionante. La griglia, eccola qua, anzi, la griglia è 240. La griglia, questa qua, come vedete, la griglia è poi, si può impostare su e giù, insomma, tramite il service menu, ma come potete vedere la griglia è perfetta, è assolutamente perfetta. La convergenza è incredibile da tutte le parti. Questo ricordo è con 32, quindi in generale i 32 sono veramente terrificanti. Invece, guardate che bellezza. La realità è perfetta. bianco, nero. Eccolo qua, 35, 0, ma vi assicuro che lo 0 sembra un OLED. Non saprei dire se è spento o acceso. Ecco, l'omogeneità e l'uniformità dei colori è anche questa impressionante. Mentre quasi tutti i 100Hz si vedono un po' delle macchie in giro, qua, su tutti i colori, è assolutamente perfetta. Bianco è perfetto. Veramente, veramente bellissimo. Veramente bellissimo. Però il televisore finalmente, ahimè, funziona di nuovo perfettamente. Questi televisori io, diciamo, li amo, ma io li colleziono perché li trovo splendidi. E non posso purtroppo farvi, ahimè, vedere e sentire il test del suono perché le casse le sto riparando perché sono mezzandate, come praticamente tutti questi televisori, quindi le sto riconando. Per cui attualmente non posso farvi sentire l'audio, ma sarà un audio strepitoso perché ha sei di casse alti, altissimi, acuti e qua grosso, una cassa grossa per i bassi, sia da un lato che dall'altro, completamente estera naturalmente. Bene, l'ultima cosa che voglio farvi vedere e velocemente un test sulla VGA, poi farò un test dedicato in inglese sul collegamento della VGA alternando Blu-ray, Wii, Xbox 360 e probabilmente anche Switch. Comunque velocemente tramite Nintendo ti voglio farvi vedere un gioco mandato in progressivo a 16 noni. benissimo, abbiamo riacceso la nostra televisione, adesso dobbiamo andare sul, premendo il tasto OK abbiamo tutte le sorgenti e andiamo sulla VGA. Bisogna inserirla, bisogna fare in modo che lui la veda, però andiamo sulla VGA. Ed ecco qua, il televisore aggancia perfettamente il segnale, ricordo che qua siamo in 480p in widescreen. L'immagine effettivamente rispetto a prima è un'altra cosa, sembra un po' monitor e di una precisione incredibile e veramente come vedete io ho collegato la VGA, è stata collegata utilizzando il cavo component dalla Wii che entra nel transcoder component da component a VGA. Il transcoder di Wakaba Video lo potete trovare su eBay, fa delle cose molto belle, devo dire la verità. Funziona veramente tanto bene, quindi noi entreghiamo quei tre cavi sul transcoder del component e da lì usciamo con un cavo normale che è un'altra cosa. Quindi qua siamo in questa modalità ed è di una pulizia veramente unica. Voglio farvi vedere, ma velocemente, perché poi ripeto fare un test a un dito specifico, ma tramite Nintendant, ci mandiamo un gioco che potrebbe essere... ma proviamo il fizzio, però un po' che non l'avevo visto. È molto semplice, noi dobbiamo andare col tasto rosso, mandiamo delle impostazioni e qua inseriamo Force widescreen e Force progressive. In questo modo lui ci forza sia il progressivo che il widescreen anche in giochi che non supportano il widescreen. Non funziona su tutti, 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 però spesso funziona. Dopodiché schiacciamo A ed ecco che il gioco parte. Questa è la versione PAL, ricordo. Una cosa molto, molto, molto interessa. Il contrasto è sempre un po' elevato, secondo me. Ed eccolo qua. L'immagine è stratosferica, i colori sono di una bellezza disarmante. È veramente incredibile. Io trovo che sia fatto molto apposta per soprattutto Xbox 360 e anche in realtà Switch, cioè su cose più nuove, anche PlayStation 3 eccetera eccetera, perché hanno un segnale ancora più pulito. Questo è un segnale molto pulito, però più il segnale è pulito ed è migliore e meglio ovviamente loro si comportano. C'è un abisso stratosferico rispetto alla Lascarte via 100 Hz e anche con i Blu-ray e con un lettore DVD nativo che esce in progressivo utilizzando il segnale VGA, devo dire la verità che il risultato è incredibile. La cosa anche molto interessante è che il nostro modulo VGA ci permette automaticamente la Leve ha fatto in modo di abilitarci il menu della geometria e in questo modo noi possiamo fare tutte le varie impostazioni dell'altezza dell'immagine, immagine orizzontale, destra, sinistra, larghezza dell'immagine, ampiezza, est-ovest eccetera eccetera. In ogni caso la geometria è già perfetta di suo, quindi insomma non ci bisogna intervenire. Bene, comunque anche questo televisore se siamo riusciti a salvarlo completamente farò un video specifico su questo televisore che ha un monte ore particolarmente basso ed è possibile che poi verrà messo in vendita. Vi ringrazio. Ho. E allora. Ho.